Il turismo ha raggiunto livelli molto alti sul nostro territorio in seguito alla nomina di Matera Capitale Europea della Cultura. GAL Trip è un progetto di cooperazione transnazionale ed è molto importante perché lo stiamo realizzando con altri GAL europei. In questi giorni una delegazione di GAL europei gira sul nostro territorio per visitare ciò che il GAL ha fatto in precedenza. È un'occasione questa per tutti i turisti o meglio per i nostri visitatori temporanei di scoprire il passato di Montescaglioso e conoscere quello che è il presente di questo bellissimo paese. Io credo che siamo in una buona regione, c'è molto potenziale qui, ma abbiamo bisogno di lavorare su questo, abbiamo fatto un feedback e credo che c'è molto potenziale. Per me è un po' di caltripsi, ma per il momento è troppo classico, ma c'è molto potenziale e abbiamo un po' di idee. Il turismo era diventato una voce importante per l'economia del nostro territorio. Con la crisi del Covid tutto è fallito e adesso con numerosi progetti e bandi che il GAL Start ha messo in cantiere abbiamo dato un po' di ossigeno alle varie imprese e sono tante sia nel settore artigianale che del turismo e dell'agricoltura. Per cui posso dire che la cultura e l'agricoltura sono due facce della stessa medaglia perché concorrono allo sviluppo socio-economico e turistico del territorio. Noi veniamo dal GAL Valle Umbra e Sibillini che è una zona dell'Umbria, del centro dell'Umbria, nella Valle Umbra e Valle Spoletana. Comprende 23 comuni e quindi siamo una zona tipica Umbra con caratteristiche sia montane che arrivano fino alla zona dei Monti Sibillini a confine con le Marche sia di valle perché tutta la vecchia Valle Umbra e Valle Spoletana da Sisi fino a Spoleto. Siamo venuti qui in Basilicata per cercare di capire anche questo territorio, che cosa può offrire da un punto di vista turistico perché comunque essendo legato a tradizioni diverse dalle Umbre o comunque anche da tradizioni diverse di altri paesi europei era interessante capire il link che c'è tra la cultura e le tradizioni anche culinari o comunque diciamo tradizioni artigianali di questo territorio che per adesso, almeno per noi, è abbastanza sconosciuto se non la città di Matera conosciuta per altre motivazioni. Especially in times of Covid-19, it needs a new concept in tourism. We think with our project SlowTrips, we open up a discourse of a new beauty in tourism. We are nine destinations from six European countries working together and developing new slow travel experiences like where it's possible to participate active with the host, getting insights in hidden treasures in backyards of rural areas and this is a big chance also for the rural areas to develop here new SlowTrips offers. I think it's a very nice surrounding, very impressive and it would be good to find out more about the tradition. So I would really love to come back and to build my own mask and to think about how to participate at the carnival or at Gucci Bocca. Yes, it would be interesting to try it out and to find it out. It's really nice monastery, definitely worth to come here. Wonder Grottole dal 2013 si occupa di questo, connettere la comunità globale con la comunità locale per far sì che i cittadini grottolesi possano vedere la loro comunità con nuovi occhi e i turisti possano vivere un'esperienza di turismo lento a contatto con un piccolo borgo del sud Italia. I think it would be quite interesting because olive oils and olive trees is a bit like exotic for other countries because we're coming from the north and we don't have such things. It's quite interesting to experience. So the first experience should be improved a little bit because as we are talking about slow trips experience we need experience through our five senses and we need the personality which expresses the history, his lifestyle and so on. And here I think we will have this thing as we already met the host who is the inheritor of his grandfather's farm and he knows how to produce it and he knows how to give that experience for the client. So I think this will be a little bit stronger. For the first one I think they should look for a person who can make that building alive like we're discussing maybe an artist who can present this story, maybe a restorer who can express the feeling how to restore old monastery and of course maybe people who know the history and tradition of the Shroof Thursday with those masks. So it would be very interesting to have a real experience when you can involve yourself with your own hands and your own experiences. Actually I'm really excited because actually me I'm from Luxembourg so I only knew the olive oil or olive from fruit from the supermarket so I'm really excited to see these olives on the tree and to get the insight how are they produced and who are the people around who are the farmers. So this is very exciting and very interesting to get this background information and yeah that's my first experience in olives, olive oil or the product olives so I'm very happy to be here and to do this experience. I think this experience this morning was something very different to now and I think there is a lot more potential to do it more practical or to get more in touch with the people or the personal side but I think that could be a very very nice offer. So I'm excited to see the development of the offer because now we saw it in the start and I'm very excited to get news how the offer will look like in the end.